Sono complessivamente 671 di cui 48 minori e 108 donne, migranti salvati nella sola giornata di ieri in 5 diverse operazioni di soccorso, tutte coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Roma. Le prime operazioni hanno riguardato il soccorso di 4 gommoni a circa 35 miglia dalle coste libiche. Sui punti la centrale operativa ha inviato la nave 18 della Guardia Costiera che ha così salvato i 4 gruppi composti rispettivamente da 116, 124, 105 e altri 105 migranti, tutti a bordo di gommoni distanti tra loro solo poche miglia. L'ultima operazione invece ha riguardato il soccorso di un barcone in precarie condizioni a circa 137 miglia d'est di Capopassero. Sul punto la centrale operativa della Guardia Costiera ha dirottato un'unità croata inserita nel dispositivo Triton e ha disposto l'impiego di una motovedetta classe 300 salpata da roccella ionica per trasbordare in tutta sicurezza i migranti dal barcone all'unità croata. La nave 18 si è poi diretta verso il porto di Pozzallo mentre la nave croata si è diretta verso Augusta. Grazie a tutti.